Buon pomeriggio e ben ritrovati in questo nuovo video le parole di Massimiliano Allegri che potrebbe ringuagliare John Elkan, il padrone della Juventus che fino adesso è rimasto sempre in silenzio. Ed è proprio questo silenzio che fa rumore, fa troppo rumore. È possibile che vada bene ogni decisione venga presa? Ce lo spiega Massimiliano Allegri nelle sue parole di qualche giorno fa, proprio nella partita contro il Frosinone, nel prepartita anzi contro il Frosinone, lui ha pronunciato queste parole che ai più è parso come uno schiaffo ma è proprio nelle parole non dette, è lì che c'è molto spesso poi la via per trovare il significato giusto e soprattutto la verità di quello che uno vuole dire. Andiamo a ascoltare le parole di Massimiliano Allegri, poi naturalmente le commentiamo assieme perché ci potrebbe essere la clamorosa partecipazione, che molto probabilmente c'è, proprio da parte di John Elkan per quanto riguarda questa ormai sotto gli occhi di tutti Marotta League, un campionato che deve andare all'Inter e John già lo sapeva e non ha fatto assolutamente niente. Ecco perché Agnelli si è dileguato da questa società, perché lui non accettava questo complotto come lo avrebbe chiamato Antonio Conte e svendersi praticamente alla Federazione Italiana Giococaccio. Ma andiamo a sentire che cosa dice nello specifico Allegri e poi lo commentiamo assieme perché le sue parole ce le dovremmo ricordare tutti, ma non so se è proprio così. Emanuele Gambe Repubblica, ciao, volevo chiederti una cosa ancora sul futuro. Dato per assodato il raggiungimento dell'obiettivo minimo che è il ritorno in Champions, il tuo futuro... Minimo, no, aspetta, minimo no. Allora tolgo minimo, l'obiettivo. No, perché bisogna essere chiaro, perché io sono molto realista. La società all'inizio mi ha chiesto l'obiettivo è la Champions, rientrare in Champions. Allora, punto, finito. No, 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 obiettivo minimo. La società mi ha chiesto l'obiettivo è quello di entrare in Champions. Quindi già la società, cosa che la Juventus non fa mai, dichiara di non voler partecipare per il campionato. Ed è per questo che la Juventus, fino a questo punto, si parla come società ha accettato qualsiasi decisione che è stata presa contro la Juventus, anche se poi l'illecito, tra virgolette, lo hanno fatto anche le altre società. Ma Agnelli, che non accetta tutto questo, si allontana, lui combatte, lui va alla giustizia ordinaria, mentre John Elkan accetta la qualsiasi. Poi le parole di Massimiliano Allegri che adesso, con il senno di poi, ragionandoci un po', ci fanno pensare che, allora è vero, allora l'invertebrato John Elkan accetta tutto perché è parte di un accordo, chiamiamolo accordo, un complotto dove vede ogni anno una vincitrice differente, come già ci hanno spiegato dalla Lega e soprattutto dalla federazione interista gioco calcio, e che quest'anno tocca all'Inter, quindi mettetevi l'anima in pace. Ormai già questo l'avamo capito, ma non pensavamo che anche John Elkan avesse accettato di buon grado questa situazione, perché è quello che ci fanno capire, ed è quello che sottotraccia, molto probabilmente, denuncia anche Massimiliano Allegri. Alla società sta bene così, quindi perché cambiare allenatore? Perché andare a cercare qualcuno che molto probabilmente potrebbe darti qualcosa in più quando tu ormai sai che devi partecipare alla Champions League? Perché per il campionato quest'anno non puoi concorrere. Se così fosse, sarebbe veramente uno smacco per i tifosi della Juventus che fino a qua ci hanno creduto, per tutti quelli che, nonostante la partita si giochi a mezzogiorno, Juventus e Frosinone riempiono lo stadio, 50.000 telespettatori a mezzogiorno a febbraio. Diciamo che non è una cosa normale, soprattutto per una Juventus che viene dalla crisi che abbiamo visto. Crisi di risultati, crisi di gioco, crisi di identità. E adesso anche in crisi di testa, perché non si capisce più questo presidente che cosa, perché per noi il presidente Ferrero non esiste, per noi il presidente Ferrero è solo il prestanome di John Elkan. Che cosa vuole fare John Elkan? Non parla mai. E questo silenzio, che poi si sa, chi taccia consente, permette proprio all'Inter insieme ai media che poi ci raccontano le notizie con il loro classico modus operandi, che è una società che praticamente in fallimento invece viene portata in gloria, come se fosse l'esempio da seguire. Invece la Juventus, che ha stadio di proprietà, la squadra femminile, la seconda squadra maschile, J-Hospital, Chai Hotel, diciamo che è una società che con lo stadio privato, prima in Italia, ha anche dimostrato di poter essere un modello da seguire, i nove scudetti consecutivi, diciamo che è quello che ha portato poi tutto il malessere nel mondo del calcio e soprattutto nel mondo degli addetti ai lavori, che ci raccontano sempre le notizie un po' a modo loro. Ed ecco che Allegri alla Juventus deve rimanere, perché una Juventus che non vince, non convince, fa bene a tutti i giornali. Fa male però ai tifosi che, nonostante ciò, tanti ancora non hanno capito che il cambiamento ci deve essere. Questa sta diventando un po' un'associazione per delinquere contro la tifoseria bianconera. Ma non fatta da parte della federazione interista di gioco calcio, che ormai abbiamo imparato a conoscere con Gravina, che riesce a fare le grazie, ricordiamo Lukaku, quando ancora era il Big Rom perché vestiva il merda azzurro. Adesso naturalmente è diventata una pippa assurda. Però le notizie ce le davano così, le prendiamo così, le grazie di Gravina le prendiamo anche così, però sappiamo che c'è qualcosa sotto. Ma così, scavando a fondo, vai a trovare anche la partecipazione da parte di John Elkan. E allora cominciano a prendere forma le parole di Massimiliano Allegri, che dice a me la società mi ha chiesto di arrivare in Champions League tra i primi quattro e non era una richiesta di un obiettivo minimo, era l'obiettivo che si era proposto la Juventus. La Juventus di chi? Perché noi conosciamo Agnelli, Agnelli fino all'ultimo avrebbe cercato di vincere. La Juventus di John Elkan, una Juventus che ormai ha perso letteralmente la propria identità. Perché di Juventus ormai abbiamo nemmeno più il logo, abbiamo soltanto il nome. Sì che la presidenza c'è sempre uno dei componenti della famiglia Agnelli, ma quello sbagliato. Perché Agnelli è proprio per questo, come vi dicevo, che ha deciso di andarsene, di allontanarsi, perché sembra strano il fatto che non parli, non dica niente. Anche se lui, a differenza di qualche presidente di un'altra squadra, è libero, è libero di circolare, è libero di andare ovunque lui voglia, di parlare soprattutto. Però non rientra mai più sui discorsi della Juventus, proprio perché lui di questo se ne è voluto lavare le mani. Non ha voluto fare l'elkan della situazione e scendere a patti con chi veramente ha cercato in tutta la sua carriera di distruggerti, sia mediaticamente che sul campo. Una squadra che porta nove scudetti consecutivi e il record italiano, che molto probabilmente, a meno che Gravina non campi altri 15 anni, nessuno riuscirà mai ad eguagliare, tenendo conto che ogni anno cambia la vincitrice del campionato e se guardate, ogni anno la vincitrice del campionato precedente, nel campionato successivo, fa degli sfracelli. Tutto questo, che dire? Il video finisce qui. Allegri mette sotto una cattiva luce John Erkens, se già non lo fosse, per come si comporta, per come se ne frega della Juventus. Ditemi voi nei commenti se secondo voi è un complotto, è una mia idea, oppure qualcosa di vero in questa notizia. C'è, perché il silenzio fa troppo rumore.